Ciao da Avsim! L'Inter di Antonio Conte ha vinto l'Europa League... No, no, aspettate, vabbè, dai, non è una questione di adesso di gufare, per me l'Inter può vincere effettivamente l'Europa League Parliamone, di questo volevo parlare perché tra l'altro, piccolo dettaglio, io ho visto tutta la partita ieri, appunto, Inter-Bayern-Leverkusen Me la sono goduta, me è piaciuta, mi ero messo anche qui a registrare il post-partita, poi cosa è successo? Mi sono accorto di aver registrato tutto il video a microfono spento Ho detto, vabbè, buonanotte, non l'ho rifatto e quindi voglio tornare sulle considerazioni che avevo fatto, che avrei fatto, che avreste ascoltato Ma anche guardando più con lucidità il giorno dopo, che cosa onestamente c'è da dire su Inter-Bayern-Leverkusen, sull'Inter in semifinale di Europa League e sulla stagione dell'Inter a questo punto Da cosa partiamo? Da Lukaku? Partiamo da Romelu Lukaku perché tra l'altro c'è stata una ripercussione interessante nella tifoseria juventina di quello che ha fatto ieri Lukaku Cosa ha fatto? Ha fatto una giocata molto interessante sul primo gol di Barella e già stava segnando lui Poi ha replicato la stessa giocata e ha fatto un gol bellissimo Ora, non sarà mai il mio gol preferito e lui non sarà mai il mio attaccante preferito Però devo riconoscere la bellezza, devo riconoscere l'efficacia, devo riconoscere la bravura Ieri Lukaku è stato inarrestabile nella corsa, è stato inarrestabile anche quando stava fermo In area di rigore faceva appunto la sua giocata di fare perno, di metterci il fisico e di non perdere mai il pallone È stato un po' meno irresistibile quando si è trattato di trasformare in rete le occasioni Perché se ne è mangiati pure di gol, così come se ne sono mangiati Moses, Sanchez Insomma, varie occasioni l'Inter ha sprecato ed è stato veramente pericolosissimo non chiudere la partita Era una partita che andava chiusa dal possibile 3-0, gol sbagliato di Lukaku, al 2-1 dall'altra parte su un errore difensivo E poi l'Inter che non è riuscito in nessun modo a fare questo terzo gol Ecco, parliamo di Lukaku, Lukaku è forte, Lukaku sta facendo un'ottima stagione 31 gol stagionali, 9 gol in 9 partite consecutive di Europa League Ha battuto il record di Alan Shearer, un mostro sacro Quindi solo applausi, qualcosa di straordinario Capisco anche l'esaltazione dei giornalisti che avevano già esaltato Romelu Lukaku E che quindi adesso stanno andando a riscuotere le loro ragioni Come dire, io ve l'avevo detto Però ha anche detto appunto che i gol se li può mangiare E che non è un attaccante per tutte le stagioni Quindi, quelli che adesso da Juventini tornano a dire Eh, ma forse abbiamo sbagliato, dovevamo fare lo scambio di Bala-Lukaku Scusatemi, ma chi ha vinto lo scudetto? Chi ha vinto gli scontri diretti? Chi ha segnato in Juventus-Inter e in Inter-Juventus? Di Bala o Lukaku? Lukaku o Di Bala? Questo dovrebbe bastare per far capire chi ci ha guadagnato nel non fare questo scambio Perché poi, tra l'altro, in realtà lo scambio di Bala-Lukaku non era con Di Bala all'Inter Era con Di Bala al Manchester United e Lukaku da noi Quindi l'Inter sarebbe stata fuori da tutta questa storia Sarebbe stata un'altra Inter, magari neanche finiva secondo a meno uno Quindi non lo possiamo sapere Però, nello specifico, loro con Lukaku e noi con Di Bala Abbiamo fatto sei punti in due scontri diretti Che poi sono stati determinanti Determinanti Ed infatti voglio farvi anche un altro ragionamento Sull'Inter di Conte Sulla crescita di questa squadra E sul momento di questa squadra Che intanto è arrivata al tredicesimo mese di stagione A correre, correre, correre Ed è arrivata in semifinale di Europa League Brevemente, non succedeva da molto L'anno scorso il Napoli si è fermato ai quarti 17-18 Lazio ai quarti 16-17 Roma ferma agli ottavi 15-16 Lazio agli ottavi E 14-15 è stata l'ultima volta che c'è stata una squadra italiana in semifinale Due per la precisione Fiorentina che prese gli schiaffi dal Siviglia E il Napoli che si fece eliminare per un gol dal Dnipro Che andò a perdere appunto col Siviglia in finale L'anno prima era la Juve di Conte Che si era auto-esclusa in semifinale Contro il Benfica che poi avrebbe perso proprio contro il Siviglia Andando ancora a ritroso fino a 10 anni fa 12-13 Lazio ai quarti 11-12 Udinese agli ottavi 10-11 Napoli ai sedicesimi 9-10 quella Juve clamorosa che agli ottavi si fece eliminare Dal Fulham 3-1 all'andata per noi 4-1 per loro al ritorno Mio Dio che incubo Però per dire non è così frequente che una squadra italiana vada in semifinale di Europa League E quindi anche se adesso non è detto che l'Inter la vinca È un risultato molto importante È un risultato che riabilita la stagione in ottica lavoro di Antonio Conte Fallimento di Antonio Conte oppure no? Intanto dobbiamo dire che è difficile che l'Inter vinca l'Europa League Anche se è estremamente possibile In che senso? Nel senso che da non sottovalutare Shakhtar Donetsk e Basilea Che sono una delle due Sarà l'avversario Lo scopriremo stasera Dell'Inter appunto nella semifinale di lunedì Non è detto assolutamente Ecco vedete Napoli all'epoca eliminato dal Denipro Juve eliminato dal Benfica Può sempre succedere Le sorprese ci sono Per cui non è detto che vada in finale È possibile Secondo me è più possibile che no Cioè è più facile che l'Inter ci vada in finale Poi però dall'altra parte C'è un ottimo Manchester United E c'è Oddio ottimo Col Copenaghen ha vinto i supplementari sul rigore Ok Ma è pur sempre una squadra che mi sembra abbastanza in forma Poi dall'altra parte L'altra semifinalista che si scoprirà appunto stasera E la vincente tra Wolves e Siviglia Siviglia che se ne vince un'altra Batte il record dell'Atletico Madrid Di maggior numero di Europa League vinte Quattro In questo momento sono 3-3 Ed è comunque la bestia di questa competizione Il Siviglia E sta benissimo L'abbiamo visto contro la Roma Ma anche i Wolves ragazzi sono un'ottima squadra Hanno degli ottimi giocatori Quindi chiunque passa tra Wolves e Siviglia Va a fare un'ottima semifinale contro il Manchester United E non è detto che il Manchester United vada in finale E non è detto che poi L'Inter possa prevalere sullo United O sul Siviglia o su Wolves Quindi tutto ancora da vedere Ma ripeto Possiamo riabilitare Antonio Conte Perché io sono stato tra quelli che hanno detto Conte ha fallito Lo ribadisco perché Vieni pagato 11-12 milioni Vieni esaltato come quello che deve assolutamente vincere Stravincere e vincerà Vai fuori ai gironi di Champions League In campionato finisci secondo Poi di un punto E ci arriviamo a questo discorso Ma comunque non vinci lo scudetto In Coppa Italia non arrivi neanche in finale Ti salvi con l'Europa League Se la vinci Se non la vinci sei a zero trofei Se la vinci hai fatto una cosa molto importante Non straordinaria Perché l'Inter doveva andare avanti in Champions Non ci doveva proprio andare In Europa League Stando agli obiettivi stagionali Non ha comunque vinto lo scudetto Che era un obiettivo fondamentale Però caspita Se vince l'Europa League Tanta roba E sono anche contento onestamente Perché torna una Coppa Europea in Italia Diamene da quanti anni Non succede Troppi Troppi Non solo Ma poi può tornarcene anche un'altra Perché se l'Inter vince l'Europa League Va a giocare la Supercoppa Europea Contro chi vince la Champions E magari porta in Italia pure quella E chi se ne frega bene così È chiaro che da Juventino Vi capisco Non è mai bello quando l'Inter vince Non devono mai vincere Ma speriamo che perdano sempre Però non sono del tutto d'accordo Perché nell'ottica del calcio italiano E guardandolo in maniera globale È importante È interessante Che una squadra italiana Torni grande in Europa O diciamo non proprio grande Grandissima Ma a buoni livelli Ora che cosa possiamo dire Sulla stagione di Conte appunto Ripeto L'Europa League diventa determinante Però io una cosa La voglio dire e sottolineare E voglio anche tornare Al discorso di Bala E al discorso scudetto Perso O vinto Per un punto A seconda della prospettiva E cioè Questa squadra di Antonio Conte Ha un'identità di gioco Chiara Fissa Stabile Ed efficace Da settembre Cioè Conte è arrivato Due mesi di preparazione E la squadra ha cominciato a giocare Come voleva lui Ha avuto i suoi acquisti Ha avuto la squadra Che gli serviva Ha fatto i nomi E li ha ottenuti Quasi tutti Però poi È riuscito anche A far giocare questa squadra Come diceva lui Non in maniera sempre Valida ed efficace E infatti Io mi sono preso Bordate di insulti Per aver osato dire Nel mezzo Del girone Di Champions League Che l'Inter in Europa Non sarebbe andato avanti Perché giocava troppo Dietro Troppo bassa Troppo a baricentro basso Troppo catenacciara E contropiedista E infatti è uscita dalla Champions Non che sia stato per merito mio Ma un minimo di ragione Forse ce l'avevo Però Nel complesso È una squadra Che è arrivata ad agosto A correre ancora Ad avere una grandissima velocità Di costruzione del gioco Ad avere un'ottima intesa Tra i suoi elementi Che siano titolari o riserve Dal primo minuto Subentranti Che sia Ericsson o Gagliardini Con ovviamente Degli errori Dei passi falsi Anche in campionato Nel finale Nel post lockdown Può capitare Però Poi alla lunga Alla distanza Io credo che la stagione Dal punto di vista qualitativo Dell'espressione di gioco Per l'Inter Sia stata positiva E allora Perché dobbiamo tornare a Di Bala Perché dobbiamo ringraziare Di Bala Signori miei Cari miei amici Tifosi Della Juventus Dobbiamo ringraziare Di Bala Che ci ha fatto vincere Gli scontri diretti Poi è chiaro che il gol decisivo A San Siro L'ha fatto Higuain Contro l'Inter Aveva segnato anche Ramsey Che aveva fatto 2-0 In Juventus-Inter Però fondamentalmente L'unico che ha segnato In tutte e due Le partite È stato Di Bala Determinante Ringraziamo Di Bala Altro che Lukaku Io Lukaku Lo apprezzo Lo stimo Ma non mi è mai piaciuto Come stile Poi insomma sono gusti Non è che Deveva piacere per forza Tutti i giocatori Ci sono giocatori forti Che riconosci forti Come la Gioconda Si può dire che la Gioconda È un pessimo quadro? No Ma si deve dire per forza Che è un bel quadro? No È discutibile A me non piace per esempio Però indubbiamente È un'opera sublime Lukaku può essere Un ottimo attaccante Anche se non piace Ma al di là del discorso Lukaku Ripeto Ringraziamo Di Bala Perché Dovevamo essere noi La squadra A rivoluzionare Il proprio gioco La Juventus Con Sarri Non è stato così Non ce l'abbiamo fatta È stato un fallimento E rimarchiamolo il fatto Che sia o non sia Un fallimento La stagione di Conte all'Inter E la stagione dell'Inter Con Conte È un fallimento La stagione di Sarri alla Juve E la stagione della Juve di Sarri Punto Perché abbiamo vinto Solo lo scudetto Di un punto Abbiamo fatto schifo In Champions League Perché a prescindere dal girone Uscire agli ottavi con Leone È fare schifo Abbiamo perso anche Supercoppa Italiana E Coppa Italia Supercoppa Italiana Male La Coppa Italia In maniera episodica Ma l'abbiamo comunque persa E allora Che cosa possiamo dire Non certo che La stagione di Conte All'Inter Può modificare Il giudizio Su quella che è stata La stagione della Juve Però che dobbiamo guardare In casa nostra E che quindi Guai Attenzione adesso A dire Troppo male dell'Inter Io sono stato uno Che l'ha criticata tanto L'Inter in questa stagione Ma perché ho sempre visto Nell'Inter La capacità di poter fare Qualcosa di più Qualcosa di meglio Rispetto a quello Che effettivamente Avevano fatto E stavano facendo Mia sensazione Ed infatti Obiettivamente Non sarà comunque Una stagione saltante Anche se vincono L'Europa League Però se È il contrario Non è che L'esito della stagione Dell'Inter Va a modificare L'esito della stagione Della Juve È l'esito della stagione Della Juve Che è determinante Su quello dell'Inter Perché È solo grazie a Di Bala E a quel punticino Che ci ha portato Lo scudetto Che possiamo dire Che la stagione dell'Inter È stata comunque In parte fallimentare Altrimenti Loro avrebbero vinto Lo so che con i secoli Ma non si fa nulla Però ragazzi Ripeto Stiamo parlando di un punto Cioè stiamo parlando Di un'eventualità Possibile Concreta E che è stata evitata Solo ed esclusivamente Dagli scontri diretti Ne sarebbe bastato uno Un solo scontro diretto Che magari vinceva l'Inter E le cose andavano diversamente Che prevaleva Lukaku Su Di Bala E le cose sarebbero andate Diversamente E quindi con questo Cosa voglio dire Che purtroppo Va detto Meglio Antonio Conte Al suo esordio All'Inter Che Maurizio Sarri Al suo esordio Che poi è stato La fine Con la Juventus Obiettivamente Dal punto di vista Della costruzione del gioco Della tenuta della squadra Nel corso di tutta la stagione E anche dal punto di vista Poi alla fine Dei risultati Perché abbiamo vinto Lo scudetto Grazie alle singolarità Alle individualità E anche alla forza Della mentalità Del gruppo Mentre Se è vero Che l'Inter Anche Diciamo Anche Conte Avrebbe potuto fare Qualcosa di meglio Nell'Inter E' vero Che quello Quello di buono Che l'Inter È riuscito a fare È riuscito a fare Grazie al lavoro Di Antonio Conte A livello tattico E qui sto dicendo cose Che magari Neanche vorrei dire Perché figuratevi Quanto mi può star simpatico In questo momento Antonio Conte O quanto mi può piacere L'universo Inter In generale Però certe cose A un certo punto Vanno pure dette Vi ringrazio Per la vostra attenzione Ditemi come la pensate Nei commenti Su questa disamina globale Su tutta la stagione A partire da Inter Bayer Leverkusen Poi ovviamente Vedremo quale sarà Il proseguo Del cammino dell'Inter In Europa League E mettete like A questo video Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Delle notifiche Per tutti i prossimi video Ci vediamo molto presto E sempre Forza Juve